Ha gestito per anni dei locali in centro storico, il terremoto già una volta lo ha costretto a reinventarsi con un'attività di ristorazione in periferia. Poi il Covid ha stravolto vite e abitudini e lui ha deciso di non riaprire in questo lungo anno, se non ora soltanto a pranzo, riscoprendo però la città con lunghe camminate, proponendo anche al Comune progetti di recupero di zone dimenticate. E ora una svolta green con una nuova attività che permetterà a turisti ed aquilani di visitare la città in monopattino. Lui è Daniele Cerrone, storico imprenditore, pronto a partire in questa nuova avventura che lo riporta in un certo senso al suo antico amore, il centro storico, dove tornerà anche a fine anno con le sue attività condivise con la moglie Sara Scarzella. L'attività già sta riscuotendo tanto successo e si avvierà ufficialmente domani. Le stesse guide turistiche stanno mostrando interesse per questo mezzo ecologico che consente di visitare con poco tempo la città e anche i luoghi del circondario. Tutto tecnologico ma verde perché il monopattino si comanda con un'app e ha un'autonomia di 60 chilometri. L'area delle mure è quella scelta per i primi viaggi. Entro qualche mese si arriverà ad una flotta di ben 120 mezzi. In questo anno che siamo stati fermi a causa Covid ho avuto la fortuna di riscoprire la mia città. E quindi facendo delle bellissime passeggiate ho avuto la possibilità di vedere le bellezze del nostro territorio e della nostra città. L'idea qual è stata? Quella di poter in un qualche modo far sì che le persone che poi frequenteranno la nostra città, turisti ma anche cittadini, possano attraverso una mobilità elettrica veloce avere la possibilità di vedere tanti monumenti in poco tempo. Oltretutto avendo un territorio che in un modo o in un altro, essendo un territorio antico, ha proprio problemi di parcheggio, si dà la possibilità con la mobilità green proprio di sopperire a questi problemi. C'è anche un altro bel progetto che lei ha proposto al Comune, nato proprio attraverso una passeggiata, il recupero di una parte che va ridosso delle mura della chiesa di Santa Appollonia, in centro storico, un percorso a due passi molto ma molto bello. La sua idea lanciata è quella di recuperare quel percorso. Sì, è un percorso bellissimo. Un giorno facendo una passeggiata in una delle aree più belle dell'Aquila, che purtroppo sono state abbandonate e ancora non riscoperte. Per fortuna devo dire che questo mio progetto, questa idea è stata ben accettata dal Comune dell'Aquila che si sta impegnando anche con le proprie forze per portare avanti questo nuovo percorso.